Il grande Pelé ha detto che una gara senza gol è come un piatto di pasta senza sale. Riferendo alla partita di domenica è stata una partita abbastanza strana perché al di là del risultato 5-2 che forse ci ha penalizzati parecchio abbiamo pagato a caro prezzo magari degli errori e quindi è giusto che... però l'abbiamo pagato oltremodo insomma perché la partita è stata combattuta fino all'ottantesimo e eravamo sempre lì pronti per raggiungerla e poi degli infortuni ci hanno penalizzato ulteriormente. Ecco ma oggi siamo qui ai salgi di Camarata per parlare non del momento Camarata, lo faremo con altri ma dei 100 gol di Privitera con la maglia del Camarata e sicuramente non è una cosa da niente. Ma questo è un record che praticamente inseguivo da un paio di anni e ci sono riuscito e sono orgoglioso di aver fatto questi numeri perché nel calcio poi alla fine sono i numeri che ti fanno fare... che ti fanno ricordare insomma e io sono orgoglioso di averli fatto con la maglia della mia squadra perché insomma dieci anni di Camarata credo che bastino per far innamorare qualsiasi persona. Ecco dieci anni fa proprio il primo gol lo vogliamo ricordare? Sì il mio primo gol è stato a Carini in Coppa Italia e me lo ricordo è stato un gol da 40 metri e quindi me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Ecco quello più bello invece? Credo quello con l'Isernia nei playoff nazionali. Dico abbastanza per caratteristiche insomma i gol che ho fatto sono sempre quasi tutti belli però quello più bello e più importante che ricordo volentieri è quello contro l'Isernia. Ecco l'ultimo è stato domenica scorsa hai già citato un po' il contesto della gara su calcio di rigore ecco però Privitera non si ferma ovviamente. No non si ferma Privitera non si ferma il Camarata perché al di là di quello che sta succedendo in questo periodo siamo un gruppo abbastanza unito adesso c'è il nuovo mister una persona preparata e sono contento insomma che la società abbia trovato una persona così competente per guidarci alla salvezza e credo che comunque il gruppo c'è e la società non è sprovvista e quindi il mercato fra un po' si riapre e poi si faranno le proprie considerazioni. Ecco Privitera che fa 100 gol con il Camarata cosa dice ai tifosi del Camarata? Ma io dico ai tifosi l'ho detto anche in un post su Facebook domenica sera anzi li ringrazio per domenica perché non è facile trovare un pubblico così immaturo da poter capire che domenica abbiamo dato l'anima pur sbagliando però la gente di Camarata da sempre si è contraddistinta per la propria generosità e nel vedere la squadra che lotta su ogni pallone credo che comunque l'applauso finale sia stato commovente. Quanti gol ancora Gioacchino? Ma io spero di segnarne tanti altri e fino a quando io ho la voglia di venirmi a allenare e essere sempre puntuali e capire che dentro il campo posso dire la mia giocherò poi appena capisco che vado un po' in affanno sarò così intelligente da potermi mettere da parte ma non è ora.